FP Lamiere SRL FP Lamiere, esperienza e professionalità al vostro servizio. Via dell'Artigianato 32, Granarolo dell'Emilia, Bologna. FP Lamiere è un'azienda che da oltre 30 anni opera con successo nel settore della lavorazione delle lamiere e della costruzione di carpenterie metalliche per conto terzi. Avvalendoci di personale altamente specializzato, eseguiamo piccoli e grandi serie, campionature e prototipi su disegni forniti dal cliente. Operiamo in qualsiasi settore, agricoltura, alimentari, elettronica, farmaceutica, meccanica, videogiochi, macchine automatiche, cosmesi e tanti altri ancora. Disponiamo di strutture e macchine tecnologicamente avanzate per lavorazioni di taglio laser, piegatura a CNC e con robot di piega, punzonatura, calandratura e saldatura a filo e a TIG, assemblaggio lamiera, puntatura prigionieri, perni e inserti filettati. Lavoriamo su ferro fino a 20 mm, inox fino a 14 mm e alluminio fino a 3 mm. Per maggiori informazioni sulla nostra attività telefonate allo 051 76 1638 oppure visitate il nostro sito internet all'indirizzo www.fplamiere.it Per maggiori informazioni sulla nostra attività telefonata all'indirizzo www.fplamiere.it